Carissime amiche e carissimi amici del mio canale, benvenuti di nuovo, buona giornata, buon pomeriggio, buona serata, buonanotte a tutti, come dico sempre dipende da quando guardate il video, comunque sia ben ritrovati. Oggi andiamo di nuovo a parlare della potenza spirituale, della potenza esoterica, dei pretos veios, eccoli qua, dei vecchi neri, le anime dei vecchi neri. Tante volte vi ho spiegato in altri video che queste anime sono poderose, sono estremamente benefiche, sono anime cariche di una saggezza ancestrale, quella che dalle loro terre di origine portarono poi con grande prova, dolore, quando furono deportati a milioni e milioni verso le americhe, per dire, verso il Brasile, verso i paesi dove venivano logicamente sfruttati, o anche di peggio, molto di peggio. E loro sono arrivati con la loro sapienza, con la forza della fede, soprattutto nei loro antichi dei, nei loro antichi culti, e da lì poi sono nati tanti altri culti. Comunque sia, noi possiamo rivolgersi ai pretos veios, cioè ai vecchi neri, che poi hanno anche molti nomi, come pai Joachim d'Angola, vovo Maria Redonda, pai Manuel, per esempio, oppure scrava Anastasia, la schiava Anastasia. Sono dei nomi abbastanza noti, conosciuti, ma chiaramente sono milioni di anime, se vogliamo metterla in questo modo. E quindi queste entità sono sempre molto presenti per risolvere tante situazioni, quando ovviamente noi siamo in difficoltà, quando abbiamo difficoltà sia spirituali, sia materiali, sia di altra natura. In questo caso il lavoro è un lavoro che serve a allontanare dalla nostra vita. Una persona molesta, una persona veramente appiccicosa, perniciosa, che non ci dà pace. Può essere per forma caratteriale, può essere anche che sia una situazione veramente di qualcuno che, come ho detto prima, non ci dà respiro, noi non lo vogliamo o non la vogliamo più nella nostra vita. Non è che vogliamo fargli del male, ma vogliamo che ci lasci in pace, che se ne vada per la sua via, per la sua strada e che la smetta di tormentarci, di darci fastidio, di insomma soffocarci in qualsiasi modo. Bene, questa pratica è molto efficace. Tra l'altro ho rimesso sul tavolo un elemento appena presentato, che molti poi mi hanno scritto in privato per sapere dove si compra. Io ripeto, si compra nei negozi di alimenti etnici, ma si compra benissimo online. Non è che voglio far pubblicità, perché tanto non ci guadagno nulla. Ma una signora mi ha detto non lo trovo. Guarda, io gli ho mandato il link e lo trova dove vuole. Voi basta che scrivete su Google olio di palma rosso oppure olio di dendè e vi arrivano tanti siti che spediscono, che vendono l'olio di palma. E quindi fate questo investimento se gradite a lavorare, imparare a lavorare appunto con la Kimbana, ma comunque con i culti afro-brasiliani, perché l'olio di palma rosso serve a tantissime cose, ha una potenza molto particolare e si trova. Se non lo trovate nel negozio, lo trovate online. Quindi questo è già un ingrediente che andiamo ad usare. Un pochino di olio di palma rosso, del sale grosso, né più e ne meno. Poi se l'avete fino usate pure anche del sale fino. Comunque è sale, sale da cucina normalissimo. Una candela bianca, una veligna, una vela, una vela branca per i nostri amati preto, sveios, per i nostri vecchi neri. Una penna o una matita, preferibilmente di colore nero. Usate questo colore. Una coltellina per lavorare e poi ho messo qui due opzioni. Una non ve l'avevo presentata, ma è molto vecchia, antica. Fogliettino, un pezzettino di carta. Potete usare la bianca, potete usare anche la carta, quella che si prende dalle buste del pane, la carta quella da pane fondamentalmente, perché anche qui ci sarebbe da dire molto, perché la carta da pane è usatissima in specie anche nell'udù, per fare un esempio, in quanto era un modo, un metodo, un elemento che le persone usavano come sostituto della pergamena o anche sostituto della carta, quella raffinata, che a quei tempi era costosa da comprare. Va benissimo usare entrambe le opzioni, quindi usate pure un pezzetto di carta da pane o un pezzettino di carta bianca, anche strappato con le mani, così non ha alcuna importanza, non importa la perfezione. Questo lavoro si fa preferibilmente di lunedì, perché è il giorno delle anime e i preto sveglio sono appunto almas anime, ma questo non vieta comunque che nel bisogno si possa lavorare anche in un altro giorno, cioè non è che c'è poi una legge scritta totale, loro sono presenti sempre, quindi o lo fate di lunedì, che è il loro giorno dedicato, diciamo così, oppure lo fate nel momento in cui ne sentite la necessità. Anche la forma delle lunazioni è abbastanza relativa, se volete iniziate in un lunedì o in un giorno di luna calante può andar bene, ma allo stesso tempo se ne avete necessità anche la luna ha un'importanza relativa, quindi lavorate fondamentalmente con qualsiasi luna. Ecco, il messaggio che poi arriva anche in altri rituali, in moltissimi altri rituali, perché a volte effettivamente queste influenze o queste forme, il giorno, la luna, eccetera, eccetera, possono passare anche in un secondo piano, perché la forza spirituale dell'entità sovrasta anche queste forme limitatorie. Oltre la vostra fede, mi raccomando, perché il lavoro va fatto con estrema fede, eh? La fede vuol dire che quello che fate voi sicuramente lo otterrete, che quello che chiedete con amore, con rispetto ai pretos veios, ai vecchi neri, loro ve lo concederanno, loro vi aiuteranno a tirarvi fuori da quella situazione lì, da quella situazione là, così come altre entità, logicamente. Senza fede, senza determinazione, si va poco lontano. Quindi munitevi sempre e sviluppate sempre la vostra fiamma interiore. Benissimo, un piatto di lavoro, io ho preso un piatto bianco, se non l'avete bianco, potete usare anche un piatto di altro colore, va bene anche in questo modo. E andiamo a vedere come si fa nella pratica questo lavoro. Abbiamo detto che serve per allontanare dalla nostra vita una persona veramente soffocante, molesta, che non ci dà pace, ma che se ne vada il più lontano possibile, che trovi qualcos'altro da fare, che sia talmente occupata, occupato, che sia talmente travolto, travolta da situazioni che poi noi neanche gli passiamo più per l'anticamera, come si dice, del cervello. Sapranno loro cosa fare, quindi sapranno loro come agire, su questo non abbiate alcun dubbio. Iniziamo così, partiamo dalla candela, che è sia un'offerta, ovviamente ai preto sveglio, sia un elemento di traballo, di lavoro. Questa candela rappresenterà anche la persona che dobbiamo mandare via, allontanare e possibilmente, ovviamente, che non ci dia più fastidio, che se ne vada e basta. Allora, cosa fate? Voi con una penna, con un ago, con uno stecchino, non importa dal basso verso l'alto, dall'alto verso il basso, scrivete i dati della persona, almeno il nome e il cognome. Poi, se l'avete, potete scrivere anche la data di nascita, nome, cognome, data di nascita. Potete usare, come vi ho detto, una penna, potete usare anche incidere col coltellino. Qui non ce l'ho, uno stecchino da denti. Insomma, mettete i dati che avete, perché dovete avere comunque qualcosa, almeno il nome della persona anche. Non sapete nulla, si va poco lontano anche qui. È vero che esiste la mentalizzazione ed è una cosa fondamentale, però va messo almeno il nome. Quindi mettiamo il caso di gente che a questo problema non conosce con esattezza il cognome, non conosce la data di nascita, metta il nome, almeno quello, e mentalizzi, cioè visualizzi dentro la testa la persona. Cosa facciamo dopo aver scritto i dati della persona? Andiamo a girare la candela. Questa operazione consiste sempre nel tagliare la parte della punta, quindi la tagliamo via e la buttiamo, ovviamente, e andiamo, la giriamo, andiamo a fare con un pochino di pazienza un nuovo stoppino, perché la situazione e la persona deve capovolgersi, deve cambiare, la storia deve proprio virar, no? Cambiare, quindi anche noi andiamo a fare questo capovolgimento che poi si trova in tante ritualistiche, della candela, della vela, e trovate lo stoppino, eh? Trovate il nuovo pavio, cioè lo stoppino. Ci vuole a volte un pochino di pazienza, ma poi eccolo qua, ho trovato lo stoppino. questa è la parte che useremo per accendere la candela, eh? Ok. Allora, facciamo un pochino di pulizia, magari di residui, meno male, ho sempre la carta nell'angolo di salvataggio. Allora, puliamo i residui e passiamo alla seconda fase. Prendiamo un pezzetto di carta. Andiamo con quella da pane, questa volta. Allora, prendete la vostra penna, matita nera, andate a scrivere i dati della persona, una sola volta basta. Quindi, io adesso farò finta che so più dati possibili. Voi mettete i dati che avete. Esempio, Luigi, il rompiscatole, scusate il termine. Luigi Verdi è la persona che deve allontanarsi dalla mia vita, che non deve più rompermi le scatole, che deve andarsene lontano, lontano, lontano. Io magari so pure la data di nascita, quindi la metto. E può essere che è nato il 16 del 6 1982. Mettiamo così. Molto elementare, molto semplice. Quindi, se avete la data, la mettete. Altre volte vi ho insegnato che in mancanza della data potete mettere, fare, cioè disegnare tre crocette. L'abbiamo visto varie volte. Uno, due, tre. Queste tre crocette, quando non abbiamo la data, simboleggiano astralmente la data di nascita. È una tradizione antica. Comunque sia, voi mettete i dati che avete, ok? E mettiamo questo testimone proprio al centro del piatto. Voilà. A questo punto viene il turno dell'olio di dendè, dell'olio di palma rosso. Ne basta poco. Non bisogna fare chissà quale inondazione. Ne basta poco. Prendiamo l'olio di dendè. Andiamo a metterne un pochino. Ecco, così va già molto bene, non di più. E lo spalmiamo su tutto il foglio. Copriamo praticamente di olio di dendè il nome, il foglietto col testimone. Bellissimo colore. Ok, allora, e qui ci siamo. In questo modo. Arriva il turno del sale. A questo punto cominciamo a ricoprire con abbondante sale il testimone. Facciamo una montagnola in definitiva, eh? Una montagnola di sale. E copriamo tutto. Anche perché in questa montagnola di sale dovremo collocare la candela che andiamo, che andiamo ovviamente a offrire ai nostri amati preto sveglios. Abbiamo fatto lo stoppino, vi ricordate? Eccolo qua, quello nuovo. La mettete proprio dentro così, in piedi. Quindi non importa scaldare la base. Magari aggiungete del sale, eh? Per tenerla più ferma possibile. Se vedete che è un po' travallante, no problem. Si rimette altro sale e si mette la candela di nuovo, in modo che non cada. Proprio così. E la candela rimane in questo modo qui. A questo punto ovviamente è il momento di meditare un attimo, di chiamare spiritualmente a noi i preto svegliosi, i vecchi neri, di ringraziarli. Quindi salutiamoli intanto con il saluto che è loro dovuto, che è questo. Adorei a salmas. Adorei a salmas. Adorei a salmas. Adoro le anime. Adoro le anime. Adoro le anime. Salve, diciamolo in italiano, salve vecchi neri, voi così pieni di saggezza, voi così pieni di forza, di conoscenza. Voi che siete sempre pronti a soccorrere le persone in difficoltà, a dare consigli, a guarire, ad aggiustare le cose. Salve a voi. A vostre parole. Salutateli. Salve a voi. Grazie di essere qui in questo momento. Grazie del vostro aiuto spirituale per ciò che sto facendo. e potete anche conversare. Potete proprio dire perché sto facendo questo lavoro con il vostro aiuto, per mandare via dalla mia vita, per allontanare Carlo Verdi, Mario Rossi, Maria Bo, o chi vi pare, nominate la persona, affinché questa persona non mi molesti più, affinché questa persona si distacchi da me, affinché questa persona non intracci più la mia vita, i miei cammini, i miei affari, le mie cose, che con il vostro aiuto, o vecchi neri, se ne vada lontano, 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 che io sia neanche un ricordo, che sparisca dalla sua mente, non mi molesti più, non torni più nella mia vita, abbia ben altro da fare, voi sapete come fare, portate via Carlo Verdi, Maria Rossi, dalla mia vita. E ovviamente a parole vostre, raccontate anche la storia se volete, ma il comando, comunque sia, comando, non è un comando, è una richiesta, perché non si comanda a nessuno, in realtà, si fa la richiesta di allontanamento, si ringrazia, ovviamente, grazie, grazie, grazie per tutto quello che farete per me. E poi si va, ovviamente, ad accendere la candela. E la facciamo prendere, in modo tranquillo, sereno, gli diamo modo di prendere un po' di forza. Mentalizzate la persona, mentalizzatela proprio che non c'è più, nel senso che non vi molesta più, che non c'è più, che non la risentirete mai più, che non oserà più interferire. Fate una mentalizzazione di questo tipo e lasciate prendere questa candela. Adesso, chiaramente, lo stoppino è un pochino corto, ma poi, fra un poco, comincerà, ovviamente, ad alzarsi. E lasciamo andare questo lavoro finché la candela non si ferma, finché non si spegne da sola nel sale. Una volta che la candela si è spenta, quindi ha fatto il suo percorso, noi lasciamo questo lavoro, così com'è, per tre giorni e per tre notti in un luogo, diciamo, nascosto, tranquillo, dove nessuno lo veda, nella nostra casa. Quindi, di nuovo, torniamo ad armadi, a librerie, torniamo anche, se volete, potete metterla anche dentro o sotto un mobile, dietro un mobile. Potete mettere il lavoro anche fuori di casa, in un angolo fuori di casa, riparato. Deve stare così, questo lavoro, tre giorni e tre notti. Molte persone mi dicono, ma come si fa il calcolo dei giorni? Il calcolo dei giorni si fa così. Oggi, per dire che giorno è, è lunedì, mettiamo scelto lunedì. Noi contiamo, no, no, non lunedì, noi contiamo martedì, mercoledì, giovedì, tre giorni, in questo modo qui, no? Oggi è venerdì, noi contiamo sabato, domenica, lunedì. Quindi, riprendiamo l'esempio del lavoro iniziato di lunedì. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, sono tre giorni e tre notti, eh? Più o meno dall'orario in cui l'avete fatto. A questo punto potete prendere tutto il contenuto del piatto e buttare tranquillamente nella spazzatura. Eh? Può essere la spazzatura anche quella vostra. poi se volete mettere in un cartoccio tipo un giornale e buttarlo in un cassonetto vicino a casa vostra, ancora meglio, ancora meglio. Non ci sono tante mezze misure, si butta via nella spazzatura. È un lavoro molto, molto efficace. se lo fate con grande fede, con grande amore per il preto sveglio, se loro vi vanno a dare una mano, vedete veramente che la persona si defila, comincia a non molestarvi più, comincia a non chiamarvi più, proprio accadono cose che la persona la smette di tormentarvi. Eventualmente, ma questo va visto, se passa un po' di tempo la persona continua ancora un po' a darvi fastidio, ripetete il lavoro. Eh? Potete ripeterlo, quindi potete rinforzare eventualmente. C'è a chi va benissimo già la prima volta, c'è chi magari con persone particolarmente resistenti serve una seconda volta. No problem, lo rifate una seconda volta, vedrete che se ne va via e non torna veramente più. Quindi un lavoro antichissimo anche questo, un lavoro molto effettivo, molto potente, da fare chiaramente per vera necessità, non da fare così un passante per per un capriccio, fatelo per necessità. e lo stoppino era corto, ve l'avevo detto. Se vi si spegne, ecco, prendiamo gli esempi e anche le cose che vediamo. Se notate che magari lo stoppino era un pochino corto e tende a spegnersi, nessun problema, non è un segnale negativo, lo andate, vedete, a riaccendere. Eh? Nessun problema. E fate continuare la corsa, come la chiamo io, alla candela, al lavoro stesso. e poi buttate nella spazzatura, come spiegato. Carissimi e carissimi, vi esorto, se ne avete ovviamente la necessità, a fare questo lavoro, a provare questo lavoro. Vedrete che se lo fate bene avrete delle grandi soddisfazioni. Per adesso vi saluto, vi mando tantissimo asce, eh? tantissima fortuna, benedizioni, salute soprattutto, è quella la prima cosa da chiedere. E un bacio, ovviamente, ci vediamo nel prossimo video. ora vediamo avanti